105 anni dell'Inter presidente, una società unica, tutte le società dicono di essere uniche, l'Inter forse lo è davvero, ha un tratto distintivo importante, ha un nome importante e diverso, è un compleanno da festeggiare con tutti i tifosi. Sì, credo sia unica perché legarsi all'Inter vuol dire essere pronti a vivere una vita emozionante, costantemente emozionante, è come uno che fa un viaggio d'avventura insomma, per cui deve avere, non è un viaggio comodo, è un viaggio che può essere scomodo, ma che ti dà tante di quelle emozioni che ti rimane in mente e quindi questo è l'Inter, questo è il viaggio con l'Inter di questo tipo. I suoi compleanni o il suo compleanno, anche se sono tanti gli anni dell'Inter, ma sono tanti positivamente in termini di tradizione e positivamente anche in termini di crescita di quello che possa essere l'amore che c'è intorno a questa squadra. L'amore, la critica, che è dovuta al fatto che sono tifosi sinceri, diretti, il tifoso dell'Inter si sente proprietario dell'Inter e questo non mi crea nessuna gelosia perché l'ho sempre fatto anch'io quando ero tifoso. Dà perfettamente ragione di considerarla così perché i sentimenti valgono molto di più di quelli che possono essere di soldi che uno mette in una società e quindi questo tipo di sentimento, di vicinanza all'Inter fa sì che ci si senta sempre trascinati da questo fascino particolare. Il fascino particolare lo possiamo festeggiare un giorno all'anno al di fuori di quella che è la situazione calcistica ed è quello che chiamiamo il compleanno dell'Inter, il giorno in cui tanti signori col cappello in testa, il cravattino, il monocolo piuttosto che l'ombrello come si usava un tempo si sono messi insieme e hanno pensato che bisognava creare una squadra che fosse nuova da tutti i punti di vista che fosse internazionale come mentalità, internazionale come nome. Così è rimasto, così è rimasto è rimasto anche in termini di giocatori, visto che abbiamo giocatori da tutte le parti del mondo che sono legatissime alla nostra società, che abbiamo avuto giocatori da tutte le parti del mondo e questo ti fa molto piacere di sentire dei grandi campioni e quindi tanto più gli italiani, tanto più i tifosi italiani tanto più i giocatori ex italiani hanno lo stesso sentimento. Quindi io credo che questo compleanno lo dobbiamo festeggiare con il piacere e l'orgoglio di essere interisti e con il piacere anche di stare insieme ad altra gente che hanno i nostri stessi sentimenti. Io personalmente faccio gli auguri a tutti i tifosi che sono la realtà dell'Inter, la forza dell'Inter, la continuità dell'Inter. Come in tutti i compleanni ci si promette anche di fare un anno buono o di continuare con la stessa passione quella è in dubbio, ed è in dubbio lo sforzo, il senso del dovere e il piacere di poter servire questa società. 18 anni della sua presidenza, 31 in totale di proprietà della sua famiglia, sono arrivati 8 Scudetti e 3 Coppe dei Campioni. È un legame importante e indissolubile quello tra l'Inter e la famiglia Boratti. Sì, il destino è voluto così, insomma, che ci fosse un legame forte, che ci capitasse per passione perché è stata una scelta di prenderci questa responsabilità, un destino anche a fatica ma ci ha premiato in un certo momento di questa avventura. Io ricordo con grandissimo orgoglio il periodo di mio padre e sto vivendo il mio periodo, il mio della mia famiglia attuale, non ti rendi conto di quello che succede solitamente mentre stai vivendo le cose ne vedi soltanto quelle negative, quelle positive ti scivolano via perché hai sempre in mente il domani, non hai in mente quello che è successo ieri. Però, insomma, nell'insieme devo dire che credo e spero che la famiglia rimanga in mente e soprattutto mio padre è come un momento di storia molto importante, decisivo, devo dire, per portare la squadra a livelli internazionali, essere conosciuta e amata anche nel resto del mondo. La situazione economica mondiale è diversa rispetto a quando lei ha preso in mano la squadra. Si parla molto di progetti. C'è, naturalmente, la volontà di far tornare l'intervincente, ma soprattutto di creare un modello di società sostenibile, di creare un modello di squadra che guardi al futuro. In questo senso è stato preso un allenatore, Andrea Stamaccioni, che è molto attento ai giovani, al futuro e alla gestione della squadra. Sì, la scelta è stata fatta in quel senso, anche quello era una scommessa. L'allenatore ha risposto positivamente alla difficoltà di un ruolo di questo tipo, alla pressione che subisce un ruolo di quel tipo. E quindi credo che questo è un passo significativo su quello che possa essere il progetto, se vogliamo chiamarlo così, che è un progetto anche di cambiamento obbligatorio dovuto al fatto che i giocatori campionissimi che abbiamo avuto e abbiamo e che dimostrano sempre un grande carattere, hanno bisogno comunque di passare poi un bel giorno il testimone a nuovi giocatori e questo lo si deve fare con intelligenza, con calma e spero e credo che Stamaccioni questo lo sappia fare.